Il Comune di Sovere ha ottenuto la possibilità dal Governo di spendere 350.000 euro. Ecco, anzitutto dove attingerete questi fondi e per che tipo di opera verranno spesi? Per la prima volta in questi anni attingeremo ad un indebitamento per circa 330.000 euro, contrarremo un mutuo per la piccola differenza che resta, invece utilizzeremo l'avanzo di bilancio ancora disponibile, di amministrazione disponibile. Verranno utilizzati per un intervento sempre nella scuola secondaria, nella parte nuova della scuola secondaria, facendo un intervento di adeguamento sismico della struttura. Precisiamo adeguamento sismico, che cosa significa? In modo particolare che interventi metterete in atto? Sono interventi sicuramente molto invasivi perché andiamo a intervenire sulla struttura, sui pilastri, su tutte quelle che sono le strutture portanti, perché la scuola, pur essendo non di vecchia costruzione, non rispetta le normative antisismiche. Questa è vero che è una zona ancora in classe 3, però è importante intervenire sulle scuole anche sotto questo aspetto. Perciò andremo appunto a fare un intervento molto invasivo che ci permetterà di adeguare anche questa scuola agli standard minimi chiesti dal Governo. Quando inizieranno i lavori? Ottimisticamente con la fine della scuola, anche perché poi dovremo terminare per forza di cose per l'inizio della scuola per evitare problemi. I tempi sono molto stretti, stiamo già lavorando, nel giro di qualche giorno dobbiamo già avere il progetto esecutivo e definitivo, perciò bando di gara e speriamo magari di poter anticipare di qualche settimana, almeno un paio di settimane rispetto alla fine della scuola. Quindi ancora interventi sulla scuola secondaria? Sì, perché ormai il resto degli interventi l'abbiamo fatto. La scuola materna è un immobile di recente costruzione, non ha avuto bisogno di nessun intervento. La primaria del 2015 siamo intervenuti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per i serramenti, per tutto quello che poteva essere importante ai fini anche di un risparmio energetico. Abbiamo inaugurato recentemente il 4 marzo anche la ristrutturazione di alcune aule di Palazzo Silvestri, anche qua abbiamo fatto un lavoro di, in questo caso, di messa a disposizione dall'istituto di due nuove aule, l'aula di musica e l'aula multimediale, oltre che a fare interventi sempre nell'ottica di risparmio energetico, illuminazione e anche risparmio termico. Oltre all'intervento che partirà in estate, che cosa resta da fare poi sull'edificio della secondaria? Beh, resta da fare proprio l'aspetto invece di abbattimento delle barriere architettoniche, anche qua di un miglioramento energetico. Diciamo che i lavori cuberebbero complessivamente 650 mila euro. Noi in questa fase ci, tra virgolette, accontentiamo di fare la prima parte dell'intervento, poi se avanzeranno le risorse nel tempo si dovrà valutare anche di adeguare proprio anche quest'ala della scuola a quanto dicevo prima.